Il mio lavoro alla fine si può tradurre nel riassunto di un viaggio, un viaggio immobile eppure pericolosissimo. Il mio viaggio verso l'osso del cuore, ovviamente il cuore è il mio e il viaggio è un viaggio che non ho ancora terminato, un viaggio dal quale non sono ancora riemerso, un viaggio che in ogni caso mi ha permesso di selezionare oggetti, rottami, ritagli, sedimentazioni di varia natura. Con tutto questo materiale raccolto ho assemblato le mie insonnie, le mie fissazioni. Ho assemblato un nuovo compagno di viaggio, il mio lavoro. Un lavoro che oltre ad accompagnarmi come un demone, chiede giorno dopo giorno di essere confessato da me. Un lavoro che non risente minimamente delle frustrazioni, dell'influenza di ciò che viene definito contemporaneo. Il tempo non mi interessa, non questo tempo. Ed in fondo io per primo definisco me stesso un moderno, un moderno in attesa di giudizio. Grazie a tutti.